Sono davvero lieto di presentare per il vostro tramite ai cittadini italiani il nuovo capo della polizia, il prefetto Alessandro Panza. Come voi tutti sapete il capo della polizia in Italia è anche il direttore generale del dipartimento di pubblica sicurezza, quindi l'autorità tecnica che presiede all'ordine pubblico in Italia.